campo base 3 domenica mattina svegliati alle 8 dall'acquazione che è venuto per fortuna per fortuna che abbiamo avuto un tetto se no ci trovavano in fondo a un fiume questo è stato il nostro alloggio mezzo al fieno stanno ottenuta anche la volpe non so che cazzo volesse eccoci qua hotel cinque stelle bellissimo guardate che tettoio non è passata neanche una goccia d'acqua ehi tutto fare tutto fare tutto fare niente dorme come un sasso questo gli rubano le telecamere non se ne accorge grazie Grazie.